Si ferma ahimè nei quarti la corsa del Barfrapappo, qualche tensione ma credo normale dopo quasi tre giorni di sforzi. Sì certo, perdere non fa piacere a nessuno, poi gli errori arbitrae ci stanno, siamo a livello amatoriale, voglio fare i complimenti all'associazione per questo torneo perché è organizzato veramente bene.